Mi chiamo Veronica Tentori, ho 28 anni, sono stata eletta nella provincia di Lecco in seguito alle primarie che il Partito Democratico ha messo in campo per la scelta dei propri parlamentari e essendo arrivata prima ho avuto questa grande opportunità di essere candidata alla Camera dei Deputati nella circoscrizione Lombardia 2. Prima di questa esperienza ho studiato architettura, sono laureata in architettura e sono tecnico comunale nel comune di Cinisello Balsamo. Mi stanno quindi particolarmente a cuore i temi inerenti l'ambiente e la sostenibilità ambientale che credo non possano prescindere oggi da un discorso di crescita e di sviluppo. Penso che bisogna procedere parallelamente su questi due livelli anche in relazione al tema della Green Economy che nel programma del Partito Democratico è stato abbastanza rilevante e di questo spero di potermi occupare se ci sarà la possibilità nel prossimo governo. Credo che vada considerato il tema della sostenibilità come un parametro per misurare la qualità della vita perché non basta più solamente il prodotto interno lordo ma appunto ci sono anche altri valori importanti come quello della sanità, dell'istruzione, dell'assistenza e quindi spero che appunto la crescita verrà affiancata a questi principi importantissimi.